Grande partecipazione di persone che si sono ritrovate dopo lo stop causa Covid dell'evento per lo scorso anno al santuario per partecipare al trentesimo raduno nazionale dell'Unmil, dedicato agli infortunati caduti sul lavoro. Manifestazione che si è svolta all'interno dei festeggiamenti per il centenario della canonizzazione di San Gabriele della Dororata e nel giorno del giubileo del mondo del lavoro e delle attività produttive. La giornata organizzata dal presidente nazionale dell'Unmil, Vincenzo Tassoni, è iniziata con la deposizione di una corona d'oro presso la statua bronza di San Gabriele all'inizio del viale che conduce al santuario. Oggi per noi è una giornata particolare per una serie di motivi, il primo dei quali è che celebriamo qui a Isola del Gran Sasso la trentesima edizione dell'incontro degli infortunati sul lavoro con il santuario di San Gabriele e dal 1990 che su mia iniziativa ebbe inizio questo bellissimo incontro che negli anni è aumentato a dismisura. L'interesse e l'attenzione dell'Italia e delle delegazioni straniere è cresciuto anno dopo anno. Il 2020 abbiamo avuto il blocco, questo blocco forzato che ci ha impedito di realizzare la trentesima edizione. Lo riprendiamo quest'anno e quindi la giornata di oggi è destinata al giubileo del mondo del lavoro e delle imprese. Credo che questa attenzione alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori è davvero un segno, un impegno fondamentale però deve partire da questa consapevolezza che l'impresa, che l'azienda è a servizio di tutti, è una comunità nella quale ogni persona, qualunque sia il livello di responsabilità, deve essere nella condizione di poter essere protetto da eventuali difficoltà che possono accadere sul luogo del lavoro.